Scoppia il caso Clasti Pollaio a Caltanissetta, in particolare al liceo Manzoni-Iuvara. Ben 42 alunni in una classe, 4 dei quali disabili, provenienti da due seconde dell'Istituto Scienze Umane, che andranno a formare una terza. La denuncia arriva dal dirigente scolastico dell'Istituto, Giuseppina Mannino Pirrello. La buona scuola, scrive, si chiama così la riforma che Renzi e la ministra Giannini hanno sbandierato. La buona scuola è quella con un numero massimo di 25 alunni, con insegnanti preparati e stabili, scrive la dirigente scolastica in una lettera aperta. Questo numero che si è raggiunto dipende proprio dal fatto che si sia formata una sola classe, una sola classe dipende da parametri molto stretti che la normativa impone per la costituzione delle classi. E quindi ci si ritrova con 42 alunni in una classe, con una difficoltà enorme di fare didattica, ma anche per motivi di sicurezza e di igiene. Ma a Caltanissetta l'anno scolastico non inizia con i migliori auspici in diverse scuole. Classi con 42 alunni si sono formate al liceo Scienze Applicate Is Mottura, all'Istituto Itas per le Scienze Sociali Luigi Russo. Solo numeri e non una libertà di scelta.